Ma il tempo stoppa le sondazioni, viene d'Ozaia, dichiarò guerra alle nutre. Ecco perché ci sono le sondazioni. Cazzo, io pensavo che fosse colpa dell'uomo, invece sono le nutrie. Guarda ste stronze. Guarda che sono le nutrie che hanno costruito, vicino agli argini dei fiumi. Sono le nutrie che hanno costruito dentro gli argini dei fiumi. Ci sono le nutrie che hanno costruito sopra i fiumi. Per non parlare poi delle nutrie che hanno disboscato intere colline. Guardate questa foto. Lo sapete chi sta guidando quella ruspa? Due nutrie. Una sopra l'altra, perché sennò non arrivano ai pedali. No ragazzi, no, cioè non c'è da ridere. Non c'è da ridere. Grande Zaia che ha scoperto la causa delle alluvioni, che non è il cambiamento climatico, è che ste stronze di nutrie pensano al profitto e se ne fottono del pianeta.